I limiti di velocità italiani non sono gli stessi per tutte le categorie di veicoli e si differenziano in base al tipo di strada che si deve percorrere. Per limiti di velocità generali si intendono i limiti di velocità dei veicoli sino a 3,5 tonnellate, come i motocicli, autovetture, autocaravan, autovetture con carrello appendice e autocarri. E sono 50 chilometri orari sulle strade urbane, 90 chilometri orari sulle strade extraurbane secondarie, 110 chilometri orari sulle strade extraurbane principali, 130 sulle autostrade. Per i veicoli pesanti, ossia gli autotreni e le autovetture che trainano rimorchi e caravan, i limiti di velocità sono ridotti e sono 50 chilometri orari sulle strade urbane, 70 chilometri orari sulle strade extraurbane secondarie, 70 chilometri orari sulle strade extraurbane principali, 80 sulle autostrade. Esistono inoltre delle categorie di veicoli che hanno dei loro limiti massimi di velocità e sono le macchine agricole e macchine operatrici compreomatici che vanno sino a 40 chilometri orari, i ciclomotori sino a 45 chilometri orari, i quadricicli a motore sino a 80. Va inoltre precisato che sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade alcuni limiti di velocità vengono ridotti in caso di neve, pioggia o grandine e quindi i limiti massimi di velocità in caso di precipitazioni atmosferiche sono 90 sulle strade extraurbane principali, 110 sulle autostrade, mentre in caso di nebbia fitta con visibilità inferiore a 100 metri, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali possono essere imposti limiti massimi temporanei di velocità non superiori ai 50 chilometri orari. Occorre infine specificare che per i neopatentati esistono ulteriori limiti massimi di velocità e sono 90 chilometri orari sulle strade extraurbane principali, 100 sulle autostrade. I trasgressori di tali limiti incorreranno in una multa che andrà da un minimo di 41 euro ad un massimo di 3.287, con la decurtazione dalla patente sino a un massimo di 10 punti. Le violazioni commesse tra le 22 e le 7 del mattino sono aumentate di un terzo. Grazie per la visione!